Come si corre sapendo che tra un po' sarà finita? Si corre con una consapevolezza che ogni momento va goduto fino in fondo, fino all'ultimo, perché comunque questo ambiente ti dà tanto durante tanti anni, condividi tanti momenti con tantissime persone, quindi questa fase della vita non tornerà più. È normale che vada vissuta al massimo, senza nessun rimpianto, perché comunque penso di aver fatto il massimo di quello che potevo nella mia carriera, quindi va bene così, sono contento. Se si riuscirà a fare una stagione come spero e di arrivare a Lombardia senza nessun problema, quella sarà la mia ottima corsa. Tantissimi bei ricordi, tantissimi anche brutti se vogliamo, perché anche questo fa parte di questo sport. Quello di Como appunto è un arrivo speciale che finiva proprio nell'arrivo di Lombardia e proprio per questo vorrei che la ultima mia corsa sia Lombardia. Il tuo futuro. Pensi che possa essere ancora il ciclismo, Dario? Credo di sì e spero che sia così, perché comunque mi piace questo sport, l'ho sempre amato, quindi mi piacerebbe poter restare e portare la mia esperienza. Poi, certo, credo che la mia esperienza possa essere utile perché oltre ai tanti numeri, agli studi dei preparatori, di persone, di ingegneri che fanno calcoli per l'aerodinamica, tutto il resto, l'esperienza via che ho accorso conta ancora, serve, perché comunque infatti quando ad un giovane vuoi insegnare qualcosa, se cerchi di spiegare qualcosa sulla preparazione, sull'allenamento o sulla gestione di un cronometro, sui numeri, loro sono già tutto. Loro crescono con la passione per questo sport e hanno internet che aiuta tantissimo a ricercare tutto quello che vogliono, tutto quello che gli interessa. Io infatti quando ero giovane non avevo questi mezzi e l'unico modo per acculturarmi in materia di allenamento era fare il corso di direttore sportivo, è vero che a 21 anni avevo già tutti e tre i livelli di direttore sportivo. Quindi adesso i ragazzi si organizzano in un altro modo e quindi quello che può insegnare loro è proprio la gestione in corsa, quello che viene fatto con l'esperienza. L'esperienza che può portare un corridore è proprio quella, cioè come ci si comporta in gruppo, come ci si muove, come si osserva, come si anticipa, che è la cosa fondamentale, come si anticipano certe situazioni e credo possa essere ancora qualcosa che non si può sostituire se non con qualcuno che ha vissuto il gruppo.